Al Dei Marsi Sandro Cimarra, la fermana fa il colpaccio e respira. I marchigiani vincono nel recupero grazie ad un calcio di rigore procurato e calciato impeccabilmente da Sardo. Ma procediamo con ordine, il morale con cui le due squadre arrivano all'impegno e i poli opposti. Con la cura poche esci, l'Avezzano ha alzato la testa dopo un avvio a dir poco deludente. Dieci punti negli ultimi cinque match hanno permesso ai bianco-verdi di tirarsi fuori dalla zona play-out. Dall'altra parte la fermana fa analino di coda del girone F ad un bivio. Bolsan cerca una vittoria che manca dal 22 settembre per salvare la panchina. Per quanto riguarda le scelte, pochi cambi nei marsicani rispetto al derby di Notaresco. Solito 3-5-2 adottato da Pokesci che si affida alla coppia Ferrari-De Silvestro per dare movimento all'attacco. Canarini con il triente offensivo, Valsecchi e Ferretti agiscono alle spalle di Bianchimano. Dirige Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. La fermana vuole comandare il gioco, il possesso porta il primo pericolo al decimo. I bianco-verdi sbagliano l'uscita e il pallone finisce sui piedi di Ferretti che con un diagonale colpisce la parte interna del palo. La reattività di Cultraro fa sì che la sfera non oltrepassi la linea. Il rischio corso sembra scuotere l'Avezzano che va ad un passo dal vantaggio con una punizione ben pennellata da Verna. Dopo appena 60 secondi sull'altro versante altro errore in uscita. L'ingenuità di Sbardella rischia di costare cara ma Valsecchi strozza il diagonale, salve i marsicani. Siamo al ventunesimo e non accade quasi nulla fino al trentanovesimo quando Cultraro non blocca un cross apparentemente in noco di Ferretti. Bianchimano si avventa sul pallone in sacca ma il direttore di gara annulla per un fallo ai danni dell'estremo bianco-verde. All'intervallo è 0-0 e con le immagini di mano il centurame passiamo al secondo tempo. Il primo pericolo arriva al quinto. Sugli sviluppi di un corner battuto da Ferretti Valsecchi arriva con i tempi giusti in patta. La sfera si spegne oltre il palo lontano. Al quattordicesimo riaffaccia la testa Lavezzano con un'incursione di Mascella. Carcalis interviene scivolate e alza sopra la traversa rischiando qualcosa. Al diciottesimo ancora pericolosa la fermana. Il solito Ferretti propone al centro dell'area. La mischia favorisce Cocino che da due passi trova il muro bianco-verde. Al ventitresimo Lampo della Lavezzano. Cross di Mascella, sponda di Allessi perde Silvestro che non trova fortuna. Un paio di minuti più tardi un incontenibile Ferretti crossa per la testa di Valsecchi. Cultraro blocca senza problemi. Al ventottesimo Bianchimano vuole prendersi la scena con un'acrobazia che termina oltre il palo alla destra di un immobile Cultraro. Alla mezz'ora arriva l'episodio che potrebbe cambiare le sorti della sfida. Granatelli trattiene Conatè in procinto di entrare in area. Milone estrae il secondo cartellino che stromette il classe 2006 dalla contesa. Lavezzano allora ci crede. Vantaggiato appoggia perde Silvestro che non trova lo specchio. Nel secondo dei cinque minuti di recupero però la fermana confezione il colpaccio. Cultraro interviene su Sardo e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta proprio il classe 2005 che Glaciale spiazza il numero uno bianco-verde regalando i suoi tre punti pesantissimi.